Le borse all'uncinetto sono sempre più di gran moda. A Tessiland non poteva ovviamente sfuggire questo particolare. Date le richieste sempre più crescenti di accessori per borse, che siano soprattutto uniche, più particolari, ricercate, vi propone dei nuovi manici. Stiamo parlando dei manici screws. Andiamoli a vedere insieme. Vediamo nel dettaglio il nostro manico. Il manico presenta una lunghezza di 59 cm, un'ampiezza di 4 cm all'attacco, che va poi a ridursi a 2 cm nella parte centrale. Quindi il manico si presenta in questo modo esternamente, mentre all'interno presenta una chiusura a vite in plastica. La chiusura a vite presenta anche uno spessore circolare che vi aiuterà ad agganciare meglio il lavoro al manico. Ovviamente tutto il manico è in ecopelle. Per agganciare il vostro lavoro sarà semplicemente sufficiente avvitare questa rotellina in questo modo. L'alternativa è anche quella di avvitare il tappino al contrario. Nel caso in cui il vostro lavoro dovesse essere abbastanza sottile, quindi nel momento in cui si va ad agganciare il manico, dovesse presentarsi questa parte in eccesso, trattandosi di una chiusura in plastica, sarà anche possibile eliminare questa parte semplicemente con un coltello ed eliminare via così l'eccesso. Passiamo ora a vedere tutte le colorazioni. Quella che abbiamo visto è la colorazione avio. Passiamo ad una colorazione più chiara, avorio. Ancora sui toni naturali abbiamo il beige. Il colore più chiaro della gamma è il bianco. Una tonalità di blu molto accesa, il bluette. Restando sui toni del blu, con una colorazione meno decisa, abbiamo il nevi. Per le tonalità più fredde abbiamo il bordeaux. Poi il cipria, una colorazione molto delicata. Come vediamo in tutti i set, le cuciture sono tono su tono. Il colore cuoio, una delle tonalità più amate, è facilmente abbinabile a numerose colorazioni. Per chi ama i colori neutri abbiamo anche la colorazione grigio. Restando sulle tonalità più scure abbiamo anche il marrone. Un colore molto di tendenza e delicato è il Tiffany. Una colorazione che si adatta a molti abbinamenti è sicuramente il colore panna. Un colore classico ed immancabile è il nero. Non poteva mancare un colore sempre di tendenza, ovvero il tortora. E per concludere il colore più vivace e più acceso di tutta la gamma, ovvero il rosso. Qui sarà davvero divertente fare diversi abbinamenti dalle colorazioni più tenue a colori accesi come il manico. Quindi abbiamo visto un manico semplice ma davvero d'effetto. Poi le colorazioni sono davvero numerosi, quindi vi permetteranno di abbinarlo davvero a tanti progetti. Si tratta comunque di un prodotto artigianale 100% made in Italy ed in esclusiva per Tessiland. Quindi un prodotto davvero ricercato. Le varie colorazioni che abbiamo visto si abbinano bene ai vari fondi disponibili in catalogo, nelle varie misure, quindi potrete divertirvi a creare diversi abbinamenti, perché no, sia tono su tono che in due colori in abbinamento oppure a contrasto. Anche l'applicazione è molto semplice, si adatta bene anche a coloro che sono alle prime armi con la creazione di borse fatti a mano o all'uncinetto. Prodotto semplice da utilizzare e pratico. Non vi resta che scegliere soltanto da dove iniziare. Arrivati a questo punto non mi rimane che ricordarvi di attivare la campanella così da non perdere nessun video e di iscrivervi al nostro canale. Vi ricordo anche di seguirci su tutti i nostri canali social, la pagina Facebook o meglio di Maya, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog. Al prossimo Tessila News! Al prossimo Tessila News!